il broccolo il sole aveva un po' fretta in un prato della fattoria mamma anatra stava covando un fresco ruscello senza nubi ormai mamma anatra era vicina a schiudersi e lei aveva un po' fretta stanca dei suoi piccoli senza nubi finalmente sentì il battere leggero di un becco contro un guscio ed ecco spuntare un fresco ruscello che subito dandosi una scrollatina per sistemare la mamma anatra prese a zampettare la peluria arruffata mamma anatra aveva un po' fretta era contenta di essere senza nubi infatti una dopo l'altra un'altra dopo l'anad una dopo l'altra nua dopo l'anad le uova si aprirono e tutti i suoi piccoli uscirono a fare una bella nuotata senza nubi tutti meno uno l'ultimo uosso il più chiuso senza nubi uffa borbottò l'anatra questo mio figlio è proprio un se almeno si decidesse a venire ma non le restava che pare una bella nuotata finalmente l'anatroccolo spezzato tuttavia era così brutto e spelacchiato che la madre si sentì senza nubi poverino pensò questo mi è proprio riuscito male ma che ci posso fare? almeno gli altri sono proprio bellini poverino l'indomani ci fu la prova del piacere che per la fattoria è un vero divertimento infatti il figlio brutto non era secondo a nessuno per fortuna confidò l'anatra a un'amica almeno in questo se la cava bene chiamati i suoi piccoli senza nubi li portò con sé a conoscere gli altri animali della fattoria c'erano i lo e i ni e i ho e il nino che festeggiarono i nuovi arrivati i più piccoli però cominciarono presto a prendere in giro il broccolo poverino no